La Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio eseguiti nella provincia di Caltanissetta nell'ultima settimana, ha accertato 41 violazioni del codice della strada, sequestrato 3 veicoli, ritirato 2 carte di circolazione e 3 patenti di guida. Inoltre 10 persone sono state sanzionate per mancata revisione del mezzo, 8 per mancata copertura assicurativa del veicolo, 8 per guida con patente scaduta, 6 per omesso uso della cintura di sicurezza, 5 per mancato utilizzo del casco protettivo, 2 per utilizzo del cellulare alla guida e 4 per altre sanzioni. Il controllo delle forze dell'ordine sul tessuto viario nisseno è costante, teso alla sicurezza dei cittadini e alla prevenzione dei reati. È durante un controllo di routine che gli agenti di polizia hanno segnalato all'autorità giudiziaria un cinquantenne sorpreso alla guida in stato di ebrezza alcolica e un ventenne sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'uomo di 50 anni nisseno prima avrebbe provocato un incidente stradale impattando contro un'altra auto, poi avrebbe inveito contro il conducente della stessa. La polizia ha disposto la confisca del mezzo e il ritiro della patente di guida. Mentre sono stati i carabinieri a segnalare all'autorità giudiziaria un ragazzo di 20 anni trovato alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in particolare risultato positivo all'assunzione di cannabinoidi. Anche in questo caso i militari hanno disposto il ritiro della patente. Grazie a tutti.